Siamo con Gianpietro Chiamenti, presidente nazionale FIMP, Federazione Italiana Pediatri, presidente rare ma non troppo. La FIMP ha lanciato uno slogan, appunto rare ma non rari. Il 20% delle malattie rare, che in totale sono oltre 6.000 patologie, colpisce i bambini e qui la diagnosi precoce è fondamentale. Cosa farete? Beh, prima di dire che cosa faremo, sottolineo l'aspetto che rare sono le malattie perché hanno un'incidenza di 5 su 10.000, però non sono rari i bambini affetti dalla sommatoria di tutte queste malattie che invece fanno numeri molto alti. La difficoltà della diagnosi è legata al fatto che queste malattie genetiche per il 90% e quindi come tale già presenti alla nascita si manifestano in modo subdolo non tutte ma una buona parte nel corso della vita e molte in età pediatrica, non poche in età adulta. Arrivare alla diagnosi comporta spesso problemi perché non sono malattie che hanno quadri chiari, sono subdole, si manifestano progressivamente e quindi diagnosticarle è già di per sé una difficoltà notevole. Una volta che è fatto la diagnosi poi si scatena il problema di come curarle, come assistere una famiglia che scopre di avere un bambino con problemi di questa importanza e come questa famiglia viene supportata dal sistema sanitario nel percorso che avrà davanti.